Questo è un video del lunedì che parla di solitudine, di soffitte senza citofono, di bambini che giocano da soli. Ma come Silvia? Che cosa sono tutti questi argomenti messi insieme? Sì, sono messi insieme perché il video del lunedì di oggi parla di leadership e di solitudine, la solitudine del leader. Che cosa significa questo? Lo vediamo tra poco. Cominciamo! Ciao, sono la psicologa Silvia e in questa serie di video ti parlo di relazioni sane, di genitorialità e oggi ti voglio parlare di un aspetto che può riguardare adulti e bambini. Sì, perché notare una certa predisposizione a prendere in mano le situazioni e notare anche, di pari passo, forse, lo vedremo insieme tra poco, una attitudine a stare da soli è qualcosa che può succedere sia su se stessi e sia i propri bambini e i propri alunni e di notarlo. E spesso anche ci preoccupa perché possiamo dire perché mio figlio o mia figlia non riesce a giocare bene con gli altri bambini, quelli giocano tutti in gruppetto e lui o lei gioca da solo, ma c'è qualcosa che non va? E proprio di questo voglio parlarti nel video di oggi. È un argomento che mi sta molto a cuore perché mi capita di lavorare con persone che per loro attitudine sono persone, io posso dire leader o con una tendenza alla leadership, ma comunque sicuramente dei punti di riferimento magari per la loro famiglia, nel loro lavoro, nelle loro amicizie. Persone che tendono a prendere in mano le situazioni perché ne hanno anche le capacità, quindi è una cosa positiva la, come dire, l'attitudine a dire ok qua qualcuno deve a un certo punto guidare la carovana, cioè anche nei mezzi di trasporto, no? Qualcuno a un certo punto al volante si deve mettere, anche se naturalmente come dovrebbe essere sano ci possono anche essere i copiloti che ogni tanto ci danno il cambio alla guida, ma il leader, il lupo alfa, il capobranco, a un certo punto prende in mano quella determinata situazione. Quando questa attitudine è molto forte nella persona e si tende anche, io dico anche senza far niente, poi andando a scavare vediamo anche che ovviamente c'è anche un vantaggio anche psicologico a sentirsi il punto di riferimento, fa piacere, è una cosa bella e quindi un po' tendiamo a farlo, un po' ci arriva naturalmente perché c'è casino, nessuno sa come sbrogliare la matassa, a un certo punto qualcuno che vede il filo lo prende e gli altri seguono. Quindi queste persone che hanno questa attitudine, adulti o bambini che siano, possono provare in certi momenti il desiderio di stare da soli e spesso lì insorgono poi i sensi di colpa. Perché io? Ma allora non sono, che ne so, innamorata di mio marito, ma allora forse non sono veramente amiche, ma allora forse... ma in realtà questo bisogno di solitudine è un bisogno particolare. Perché vi ho detto prima il monolocale senza citofono? Perché per esempio l'idea di staccare non è collegata a una vacanza come quella, cioè può essere anche collegata ovviamente a una vacanza, ma non è solo collegata a una vacanza così come abbiamo in mente noi che possa essere, ma può essere proprio l'idea di andare in un luogo o ricavarsi uno spazio dove nessuno ci chieda niente. Cioè l'idea di sbollare, staccare, passare la cartolina, posare i vestiti per un po' della persona risolutrice, del punto di riferimento, di quella persona a cui si chiede che cosa possa fare eccetera. Questa è una cosa molto importante per farvi capire che non ci si deve sentire in colpa se si sente il bisogno di avere degli spazi protetti perché per fare tutto quel lavoro che viene fatto di punto di riferimento, di quello che ok si mette lì, ti aiuta, risolve il problema, prende in mano le situazioni, ogni tanto bisogna ricaricarsi, cioè le fonti che erogano ogni tanto vanno riempite, lo dico spesso delle mamme e lo dico anche dei leader, hanno delle cose in comune in quanto risolvono parecchi problemi. Quindi niente sensi di colpa e niente idee di stranezza se ogni tanto sentite di avere il bisogno di stare soli, soli senza nessuno, soli col telefono spento, senza delle interazioni che posso vivere come un'altra cosa da risolvere, da affrontare eccetera eccetera. Magari non è neanche così dall'altra parte ma posso viverle in questo modo. E quando riguarda i bambini, perché qui c'è un altro tipo di solitudine e sono due no? Penso alla canzone di Uomini soli, con i bambini soli. Quindi ci può essere la solitudine positiva di quello che io definisco fanculo dei. Io l'ho indetto una volta all'anno però vi dico la verità, ce ne vorrebbe uno al mese. Io un giorno all'anno, quasi sempre a settembre, prendo, me ne vado al mare che per me è rigenerante, da sola. Mi porto tutti i comfort, ho la borsa frigo con i panini buoni, le brioche, il caffè, il termo di caffè caldo, i gialli che piacciono a me, le parole crociate, la lazy bag dove prendermi il sole e il telefono spento. Quel giorno per me è una grande ricarica perché so che a settembre devo ricominciare ad occuparmi di tutta una serie di cose. Provateci, istituitelo anche voi il fanculo dei e fatemi sapere se lo passate, se andate da qualche parte, per favore taggatemi perché così so che questa ottima consuetudine, inventiamo l'hashtag fanculo dei, può essere indetta. Ma stavo parlando invece di un altro tipo di solitudine, che è quella del non ritrovarsi, non riuscire a incastrarsi. Perché? Perché un aspetto molto tipico di chi ha un'attitudine alla leadership è non essere molto capaci a farsi andare bene le cose. Tutti vogliamo andare in quella pizzeria, ma a me non piace la pizza di quella pizzeria e non riesco tanto a dire vabbè dai, chi non importa. Magari mi adatto e per tutta la sera penso, comunque la pizzeria in cui sarei andata io sarebbe stata la pizza più buona. Continua a pensarci, sembra una cosa da pazzi furiosi, ma è che proprio la leadership va di pari passo con un aspetto di essere esigenti, anche su se stessi, e anche sugli altri ma in generale sulle situazioni, non essere tanto capaci di farsi andare bene le cose che non ci vanno bene. Nei bambini piccoli spesso questo si traduce nella rigidità, quindi nella difficoltà a interagire in un modo diciamo fluido anche cercando di adattarsi al gruppo dei pari e quindi a volte si ritrovano soli, non perché lo vogliano per ricaricarsi, ma perché non sono riusciti a integrarsi. Cosa possiamo fare in quel caso se notiamo questo? Se notiamo che quindi lo stare da soli non è una questione di timidezza, in quel caso andatevi a vedere il video sulla timidezza, ma è una questione proprio di attitudine a voler far andare le cose come voglio io, che ovviamente è anche una buona attitudine, ma difficoltà a renderla un po' flessibile. Qualcosa si può fare, anche se naturalmente l'attitudine non si cambia, quindi i bambini diventati grandi fatemelo sapere nei commenti e ancora così ditemi la verità, vi riuscite ad adattare alla pizzeria, al luogo della vacanza eccetera eccetera o vista qua? Magari lo fate o magari non lo fate nemmeno perché volete fare le cose a modo vostro? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se notate questo, che quindi il bambino o la bambina fa fatica ad adattarsi, una cosa importante su cui lavorare è il concetto di imparare crescendo a scegliere le proprie battaglie, cioè non è sempre il tempo di tenere duro, a volte si può lasciare andare perché altrimenti diventa una vita in cui tengo il punto su tutto, sui calzini, sulla tazza, sulla pizzeria, sul luogo dove andiamo ai giardini, è sul gioco da fare, è sulla regola, ma non tutte le battaglie sono alla pari. Quindi valorizziamo l'attitudine del bambino, bene ma che bello che vuoi essere tu, che decidi, che fai il capo, che pensi come vuoi fare le cose, però devi imparare crescendo a scegliere le tue battaglie. Bene che ci sono delle cose su cui non ti pieghi e non ti piegherai e cercherai anzi di piegare la realtà per farla andare come vuoi tu, però questo non può essere su tutto, se no la vita ragazzi è una fatica se non ci si adatta ogni tanto e se non si scende un po' giù per la corrente, per il verso del pelo perché non sempre la corrente va naturalmente nella direzione che desideriamo noi. Fatemi sapere se avete provato, se avete visto i vostri bambini provare questi due tipi di solitudine. La solitudine rigenerante che spesso viene anche criticato, attaccata dagli altri, ma come, perché, ma stai con noi, ma cosa fai, vai a mangiare da sola, sì, ma vai riuscire a incastrarsi in un flusso che va in una direzione che non è proprio quella che voi avevate pensato. Fatemelo sapere e noi ci vediamo, ci ascoltiamo il prossimo lunedì. Ciao!